Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Anche Gela ha aderito con l'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, scuola amica dell'Unicef. Oggi sono state messe in campo una serie di iniziative che vedono protagonisti gli alunni attraverso la preparazione di cartellonistica, riflessioni, visione di cortometraggi, esibizioni sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questa mattina gli alunni delle classi di scuola primaria del plesso di Via Caviaga si sono recati nel plesso centrale di Via Salunico e assieme agli altri studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado hanno festeggiato l'evento. Ricordare i bambini che ci sono ai loro pari, che hanno bisogno e versano veramente in condizioni di vita indescrivibili e indicibili non apprezzo. Non apprezzo ai fini dell'educazione, alla sensibilità, all'affettività, alla solidarietà, che sono tutti i valori che ci pregiamo di trasferire i nostri alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. È una giornata più che altro celebrativa, che ha l'impronta di una festa, che riusciamo a realizzare anche grazie di quell'impegno degli insegnanti, primi fra tutti, ma che si correda dell'operato realmente, è una testimonianza di grande creatività. Noi siamo qui perché abbiamo veramente una grande gioia di partecipare a questo progetto che ha una finalità importante. Abbiamo scoperto che i nostri bambini tutti hanno compreso il messaggio e l'hanno compreso oggi diversamente da come poteva essere ieri. Oggi hanno riflettuto su quali potevano essere realmente i loro diritti, diritti che loro non riconoscevano perché per loro cose ovvie come la famiglia, la salute, l'istituzione, la scuola e quanto altro erano normalità di tutti i giorni. Mentre oggi hanno compreso che questi si chiamano diritti e che questi diritti non sono alla portata di tutti. Abbiamo studiato i diritti, ci hanno fatto vedere anche molti video di persone che soffrivano, ci hanno fatto capire l'importanza di questa festa, abbiamo fatto anche dei cartelloni. Ho imparato che questi bambini non devono soffrire, perché non ci dovrebbe essere manco la guerra, perché se no questi bambini soffrono, piangono, muoiono. Il diritto alla vita, ad essere protetto, ad avere un dottore, ad avere un nome, ad avere una famiglia al gioco. Domani tutte le sezioni di scuola dell'infanzia ricorderanno la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, incontrandosi nel plesso di Via Caviaga, dove è prevista la marcia dei diritti nel cortile della scuola. L'iniziativa prevede la presenza di una delegazione dei volontari dell'Unicef che si presteranno a dare il loro contributo.